Proseguono le lezioni di montaggio video con Adobe Premiere 2019, ben trovati da Fabio Ambrosi. Siamo qui ancora con questo corso, finalmente oggi metteremo mano a Premiere creando il nostro primo progetto. Se non l'avete fatto iscrivetevi subito al canale YouTube, cliccate su iscrivimi, iscriviti... Non mi ricordo cosa c'è scritto su YouTube, sinceramente. Vabbè, comunque, registratevi al mio canale così che possiate sempre essere aggiornati sui nuovi tutorial che verrò pubblicando da qui ai prossimi mesi. Il programma è veramente lungo, quindi non perdiamo tempo e andiamo subito avanti. Come creare un nuovo progetto in Adobe Premiere 2019? Allora, è semplicissimo. Nella scorsa lezione eravamo rimasti davanti a questa schermata. È la schermata di benvenuto di Premiere. Qui, avevamo detto, Premiere inserisce alcuni link a degli articoli di approfondimento per imparare ad usare Premiere. Noi vogliamo creare quello che è il nostro primo progetto Premiere. E per creare un progetto Premiere, indovinate un po' cosa dovete fare. È semplice. Dovete cliccare sul bottone Nuovo progetto. Immediatamente Premiere farà comparire una nuova finestra, all'interno della quale dovremo andare ad inserire due informazioni molto importanti. La prima informazione che dobbiamo fornire a Premiere è il nome del progetto. Quindi date un nome chiaro al progetto che state creando. Ad esempio, questo è il primo progetto che noi stiamo creando. Magari non lo chiamiamo proprio il primo progetto, no? Non ha molto senso. Chiamiamolo progetto oppure tutorial Premiere. Ok? Ha senso, no? In questo progetto noi andremo ad inserire tutti quelli che sono i file relativi al tutorial di Premiere, per esempio. La seconda informazione importante che dobbiamo fornire è il percorso. Vale a dire, Premiere ci chiede in quale cartella del nostro computer volete andare a racchiudere tutti i file del progetto che state creando? Quindi file temporanei, file di anteprima, il file di progetto stesso e i salvataggi automatici. Ecco, noi dobbiamo selezionare una cartella del nostro hard disk. Consiglio? Me lo sentirete dire spesso. Cercate di essere ordinati. Una delle caratteristiche più importanti di un buon montatore video è l'ordine. Non perché lo sia fissato con l'ordine, ma semplicemente perché quando dovrete gestire decine di progetti con centinaia di file, se cominciate a spargere file in una cartella piuttosto che in un'altra, è a confondere magari file, diciamo a mischiare file tra più cartelle, tra più progetti, poi diventerà complicato capire in quale cartella avete inserito quell'immagine che stavate cercando o piuttosto se dovete fare spazio sul vostro computer sarà difficile capire cosa cancellare e cosa invece dovete conservare. Quindi la prima regola è siate ordinati. E qui, quando create il vostro progetto, inizia il vostro ordine, dando un nome chiaro al progetto e un percorso ben preciso al vostro progetto. Secondo consiglio, quando aprite il bottone, quando cliccate sopra il bottone sfoglia e vi appare sostanzialmente questa finestra dove potete andare a scegliere la cartella su cui far confluire tutti i file, evitate per quanto possibile di lavorare dentro all'hard disk di sistema. Questo vale soprattutto per chi utilizza Windows. Se avete a disposizione più hard disk, come nel mio caso, cercate di far confluire il vostro progetto su un hard disk diverso dall'hard disk di sistema. Ora, questo è un consiglio che è molto valido e molto importante per chi utilizza Windows. Per chi utilizza il Mac, ecco, sì, è sempre meglio avere un secondo hard disk su cui far confluire tutti i nostri progetti. Però per Windows è molto importante evitare di lavorare sullo stesso hard disk, sulla stessa partizione utilizzata da Windows, perché la partizione, soprattutto se utilizzate un hard disk meccanico, se si riempie, diciamo che il computer non ne giova in prestazioni. Quindi il consiglio è, quando ho comperato un computer, fate in modo di avere due hard disk, uno dedicato al sistema e uno dedicato ai vostri progetti. Io, per esempio, ho dedicato un intero hard disk chiamato editing ai miei progetti e io qui dentro posso andare ad inserire tutti i miei progetti tranquillamente. Quindi io vado a creare una nuova cartella e la chiamo progetto Premiere, per esempio, e io qui dentro andrò ad inserire, a creare il mio primo progetto Premiere. Seleziono la cartella e quindi ricapitolando, in questa schermata abbiamo detto a Premiere che il mio primo progetto si deve chiamare Tutorial Premiere e questo progetto Tutorial Premiere lo vado ad inserire nella cartella Progetti Premiere dentro all'hard disk. Una volta che ho dato queste due informazioni, per il momento sorvoliamo tutto il resto, ci torneremo magari in una delle prossime lezioni, clicchiamo su OK. Ecco, Premiere ha appena creato il nostro primo progetto. Che cosa ha creato Premiere esattamente? Non solo questo spazio di lavoro su cui tra poco andremo a lavorare, ma se andiamo ad aprire il nostro hard disk e andiamo a vedere nell'hard disk E, Editing, dove avevamo creato il progetto, la cartella Progetti Premiere, vediamo che Premiere sostanzialmente all'interno del percorso che avevamo selezionato ha creato un piccolo file che si chiama Tutorial Premiere. Eccolo qua, ingrandiamo un attimino, così lo vediamo meglio. Eccolo qui, questo file Tutorial Premiere ha un'estensione, estensione PRPROJ. Questa estensione è importante perché sostanzialmente è l'estensione che caratterizza tutti i file progetto di Adobe Premiere. Quindi questo piccolo file, che se andiamo a vedere ha un peso veramente irrisorio di 33 KB, quindi veramente un file molto piccolo che può anche essere spedito per email, anche un progetto molto complesso, raramente va a pesare talmente tanto da non poter essere spedito via email, diciamo che questo piccolo file di progetto conterrà tutte le informazioni importanti relative al vostro progetto. E automaticamente Premiere, appena creato questo file di progetto, lo andrà ad inserire nella cartella che noi abbiamo indicato nel momento in cui abbiamo creato il nostro progetto Premiere. Spero che sia chiaro quello che ho appena detto, credo sia molto semplice. Ad ogni modo, una volta che abbiamo creato il nostro primo progetto Premiere, quello che abbiamo davanti è questa finestra, ok? È sostanzialmente un progetto completamente vuoto, completamente da popolare, e noi nella prossima lezione andremo a vedere piano piano come è composta questa finestra, a che cosa servono tutti questi pannelli, via via che passeranno le lezioni, impareremo, insomma, a gestire i nostri progetti e i nostri file multimediali in maniera semplice e rapida. Iscrivetevi al canale YouTube per essere aggiornati appena usciranno i prossimi tutorial. Venite a trovarmi sul sito www.fabioambrosi.it Fate una capatina anche su Facebook, perché no? Venite a trovarmi sulla mia pagina Facebook, Fabio Ambrosi, e ci sentiamo al prossimo tutorial.